Bravi, bravi tutti, sono stati ufficialmente la rivelazione del campionato, quinta posizione con un campionato così, con le prime quattro di quel livello, è una buonissima posizione. Adesso playoff contro Firenze, fattore campo a suo favore, però Firenze è vicino a casa, vicino a Faenza, quindi avete tanti tifosi e poi siete carichi a mille. Siamo carichissimi e soprattutto abbiamo evitato a mio parere due campi molto difficili come San Mignato e Omenia che forse erano quelle due un po' più ostiche. Andiamo a Firenze, ce la giochiamo, arriviamo la carichi sicuramente, avremo una gara due in casa con un sacco di entusiasmo e dobbiamo solo andare a vincerne una fuori, non ci vuole niente.